MP Rotator è disponibile in tre diverse categorie. L'MP1000 copre da 2,4 a 4,5 metri, l'MP2000 da 4 a 6,4 metri e l'MP3000 da 6,7 a 9 metri. Per ogni modello sono disponibili tre diverse opzioni di regolazione dell'arco, da 90 a 210 gradi, da 210 a 270 gradi ed una ad arco fisso per cerchio completo di 360 gradi. Sono disponibili ugelli speciali per strisce laterali e zone con angoli acuti. Questi ugelli consentono di irrigare aree rettangolari di dimensioni 1,5 x 4,5 metri e 1,5 x 9 metri. L'MP Rotator può essere regolato in modo semplice e veloce, procedendo in due fasi, una per l'arco e una per la gittata. Per regolare l'arco, installare MP Rotator con l'indicatore dell'angolo sinistro indirizzato verso il bordo sinistro dell'area che si desidera irrigare. Quindi, accendere l'impianto. L'arco infatti non può essere regolato se l'irrigatore non è in funzione. Ruotare l'anello di regolazione in senso orario per aumentare l'arco e coprire l'area che si desidera irrigare fino a raggiungere l'arco massimo previsto per il modello in uso. Regolare la gittata tramite l'apposita vite di regolazione posizionata nella parte superiore. Su tutti i modelli MP Rotator, la gittata può essere ridotta del 25%. Ruotare la vite in senso orario per ridurre la gittata o in senso anti-orario per incrementarla. Per passare dalla gittata massima a quella minima, sono necessari 4 giri completi.